Sono le 20 e 13 di sabato 16 dicembre, abbiamo intorno al 28, 30 nodi di vento, siamo ridotti adesso a tre mani con la randina, la trinchetta in sicurezza per la notte e sparirà ancora, c'è un groppo laggiù in arrivo, si vede, è scuro, è bello tosto. E andiamo avanti l'ortodromi che è buona, ci stiamo portando, stiamo guadagnando sempre est. Abbiamo appena passato, stiamo passando Greenwich, 0, 0, 0 e ci manca di arrivare al meridiano del Capo di Buonasperanza, che è intorno al diciottesimo. Quindi ha 18 gradi da guadagnare verso est, perché ora siamo a ovest. Bene, buon sabato sera a tutti, ciao!